Il circuito Visit Brescia, campionato provinciale di slalom a Borno, vede nuova campionessa provinciale nella categoria ragazzi femminili Alessia Oliva dello Schittin Borno, a secondo posto Marta Romele Valpalotteschi, a terzo posto Veronica Triboldi Brixi Asci. Alessia Oliva conquista matematicamente il pietorale rosso di categoria. Sulla nevi di casa? Sì, è stata una bella gara, divertente. Ho fatto qualche errore nella seconda match, però va bene. La prima sono partita un po' diciamo floscia, senza convinzione. Nella seconda ho cercato di tirare fuori il meglio di me stessa e sono abbastanza contenta. La categoria ragazzi maschili è primo Bertussi Giacomo, Sciclab Lumezzane, secondo Edoardo Riva, Sciclab Croce Domini, terzo Tommaso Vistalli, Brixi Asci. Giovanni Triboldi mantiene la prima posizione nella classifica generale valida per l'assegnazione del pietorale rosso. Dove ti sei sentito meglio nella prima o nella seconda? Nella seconda, la prima tagliavo un po' troppo, ero troppo a rischio. Bravo, complimenti. Grazie. Meglio nella prima match, anche se nella seconda ho recuperato un po' di un decimo dall'apposizione del primo. A chi lo dedichi? A tutti i miei allenatori, a chi mi sta dietro sempre. Dopo la caduta di domenica mi serviva questo podio, sono molto contento. A chi lo dedichi? Alla mia famiglia, agli allenatori, a tutti quelli che mi conoscono. Nella categoria live femminile, prima Giulia Romele Valpalottoschi, che diventa anche campionessa provinciale, seconda Irene Palazzini, Brixi Asci e terza Angelica Bettoni, pro ski team. Giulia Romele si aggiudica matematicamente anche il pietorale rosso di categoria. Sono molto soddisfatta, anche se avrei potuto spingere qualcosa di più, soprattutto nella prima match, però sono felice della mia prestazione. Dopo tanto tempo che comunque non avevo soddisfazioni, finalmente è arrivata. Questo terzo posto lo dedico a mia mamma, che nonostante oggi non sia potuta venire, mi è stata vicina. Nella categoria allievi maschile, primo Jacopo Claudani Valpalottoschi, nuovo campione provinciale di slalom, secondo Michele Moretti Valpalottoschi e terzo Luca Ruffinoni skiing. Ho lasciato bene, sono contento, anche perché in questo periodo stiamo lavorando bene in slalom. E niente, buona prestazione. Ho lasciato bene la prima match, la seconda anche, e sono molto contento della mia prestazione. Sono molto contento della prima match, poi la seconda un po' meno, però tutto sommato buono così. Gli stessi tre atleti, con lo stesso Claudani e Vimattaggio, si contenderanno il pietorale rosso all'ultima gara.